Innanzitutto rivendicare reddito per tutti, siamo dentro una emergenza sociale, molti lavoratori e lavoratrici non hanno ancora ricevuto neanche la cassa integrazione, i provvedimenti sono assolutamente inadeguati, noi proponiamo l'estensione del reddito di cittadinanza a tutte le persone che ne hanno bisogno modificando l'attuale norma e pensiamo che bisogna aiutare tutti e tutti quelli che sono in difficoltà in questa fase, pensiamo che le risorse pubbliche non possano essere indirizzate ad arricchire i ricchi di sempre, riteniamo scandalosi che si chiedano 2000 requisiti al cittadino normale mentre si dia il regalo a Confindustria del taglio dell'Irap indiscriminato a tutte le imprese e anche a quelle che non hanno chiuso e non hanno avuto una riduzione degli utili. Riteniamo vergognoso che si sostengano imprese che hanno spostato le sedi legali all'estero per non pagare le tasse in Italia e che queste risorse pubbliche vengano date senza porre neanche delle condizioni come per esempio che per i prossimi due o tre anni non vengano effettuati licenziamenti. Pensiamo che bisogna fare una politica diversa, bisogna garantire un reddito a tutte e tutti in questa fase e bisogna investire sui bisogni sociali del Paese perché come ha dimostrato la pandemia 37 miliardi di tagli alla sanità negli ultimi dieci anni ci hanno resi più vulnerabili al Covid-19 ed è per questo che invece chiediamo che si investa nella scuola pubblica per fare in modo che tutti gli studenti, tutti i bambini, tutte le ragazze e ragazzi possano tornare in classe, in classi di non più di 15 studenti assumendo un numero adeguato di insegnanti. E poi bisogna dire la verità, in Europa non c'è ancora la soluzione perché i soldi arriveranno tardi e sono pochi rispetto a un crollo del PIL del 13%. Bisogna esigere che la Banca Centrale Europea, come fanno tutti i Paesi, le banche centrali finanzi la lotta contro la crisi perché sarebbe assurdo adesso fare debito per poi fare di nuovo tagli come è accaduto in passato e far ricadere il costo della crisi sulla popolazione come è accaduto negli ultimi dieci anni. Noi abbiamo già un Paese in crisi, ce l'avevamo già prima della pandemia è necessario invece assolutamente una svolta nelle politiche economiche. Bisogna andare a prendere i soldi laddove ci sono e non fare i regali a chi non se le merita a partire dal gruppo FCA Auto e le altre grandi imprese che hanno portato le loro sedi legali all'estero e adesso ci invitano a comprare italiano.